Capri ragazzo laggiù, ta-da-da, corri tra lampidi blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video e corre un po' Bitcoin, corre su questo nuovo ciclo mensile che è iniziato un po' in anticipo rispetto a quello che ci aspettavamo qualche giorno prima, ma ogni tanto i mercati fanno questi giochini, è comunque un ciclo mensile veramente particolare perché dovrà dare alcune risposte, probabilmente le risposte si è iniziato anche una nuova fase trimestrale che quindi può darci un po' di fiato prima della fase finale di questo ciclo annuale, abbiamo parlato tanto spesso nel mio canale ragazzi, ma prima di vedere un po' di grafici, anche la settimana importantissima perché questa è la settimana relativa in pratica alla PONC, è una settimana stra-importante perché ci sono le decisioni della Banca Centrale Americana, ma non è quella la decisione, la questione importante quanto probabilmente il discorso che farà Paolo. Prima però di andare avanti ci sono due super conferenze che sono alle porte ragazzi, una sarò presente anch'io, l'altra no perché sono in Spagna e non posso andare, però sostanzialmente sono una meglio dell'altra. Allora iniziamo dalla prima che è il Blockchain Beach che si svolgerà a Pescara sabato 23 settembre, domenica 24 settembre, è una conferenza ragazzi un po' da relationship, cioè dove noi faremo degli speech, ci saranno tantissime persone, tantissimi influencer, tutti gli amici di YouTube, ci sarò anche io, il giorno 23 farò uno speech anche io e in particolar modo è un modo per incontrarci dopo l'estate, rivederci un po', stare insieme, ci sarà anche il bici party la sera, insomma si festeggia, si parla, si fa workshop, si fa relazione insieme. Allora vi lascio il link in descrizione della Blockchain Beach, ragazzi con il link avete 10 euro di sconto per il biglietto, trovate tutte le info dal link che vi lascio in descrizione, se volete venire vi aspettiamo, saremo veramente in tantissimi. Seconda conferenza stratosfericamente importante è l'ETH Milano ragazzi, una conferenza importantissima e internazionale che si svolgerà invece il 5-6 ottobre e dove io purtroppo non riuscirò a venire per la questione che sono appunto in Spagna, quindi non riuscirò a rientrare in Italia insomma eccetera, per quella data. Però allora ragazzi tutti i ETH fanboys e tutti quelli che si adoperano a livello anche informatico per quanto riguarda la DeFi, per quanto riguarda la struttura della creazione degli NFT, tutto lo scaling legato alle reti di ETH, i layer 2 eccetera, allora questa è una conferenza che probabilmente adorerete. Ci sono un sacco di speech tutti internazionali ed è insomma sicuramente una bomba, la prima che fanno se non erro anche a Milano di questa revatura, guardate quanti speech assolutamente importantissimi. Allora vi lascio i link in descrizione per quanto riguarda ETH a Milano e lì avete tra le altre cose un super sconto del 50% sul biglietto, quindi usatelo ragazzi, non è un video sponsor questo, ma usateli perché sono regali che facciamo alla community, quindi link in descrizione usate questo 50% se volete partecipare. Andiamo a vedere la questione del calendario economico di questa settimana, andando velocissimo per quanto riguarda quello che c'è da attendere. Intanto nella giornata di domani martedì il tasso di inflazione europeo previsto sostanzialmente in linea con il dato precedente, attenzione potrebbe esserci qualche scossettina qui, perché visto il rialzo anche del tasso di inflazione rispetto a quello atteso per quanto riguarda gli Stati Uniti, magari anche l'Europa a qualche puntino, magari in più potrebbe averlo, quindi potrebbe esserci qualche modifica al rialzo purtroppo di questo dato. Però in linea di massima dovremmo essere comunque simili al dato precedente. Invece la giornata del 20 di settembre è assolutamente straimportante, ma anche il 21, però il 20 di più, per quanto riguarda la questione della decisione del PONC, che poi ormai è scontato, tasso di interesse degli Stati Uniti restera a 5,50 con grandissima probabilità, altissima probabilità, ma quello che conta alle 8 e mezza del mercoledì 20, la conferenza stampa di Power, per capire un po' quello che dice. Per esempio, la questione legata al fatto che impennata, il rialzo leggero del tasso di infrazione delle ultime rilevazioni può essere momentaneo e che quindi comunque la struttura del tasso di infrazione è volta a scendere e a continuare questa fase di discesa. Ovvio che se arriviamo a un target del tasso di infrazione nel prossimo anno intorno al 2%, target stimato e voluto da tutte le banche centrali, i tasti di interesse al 5,50 o addirittura 5,75 con grande probabilità a fine anno sono alti, quindi teoricamente Power poi inizierà a ridurli probabilmente di 1-2 punti percentuali circa, però questa cosa qui dovrà avvenire dopo che il tasso di infrazione sarà sotto controllo e dopo che sarà, diciamo, stabilizzato, quindi non soltanto, diciamo, dopo che tutte quelle che sono le questioni che possono spingere il tasso di infrazione saranno riportate a 0, quindi saranno stabilizzate sotto controllo. Andiamo a vedere invece per quanto riguarda la struttura dei cicli di Bitcoin un bel rialzo, un bel rialzo di Bitcoin, un po' solitario anche rispetto a Nasdaq, perché Nasdaq, vedete, ancora stenta in questa fase, come abbiamo detto, a riprendere i nuovi mazzi, in una fase delicatissima, ma mi sta bene anche se continuo a fare questa oscillazione. Nella super live che abbiamo fatto la settimana scorsa, una live incredibile di mercoledì, tra le altre cose, ragazzi, vi lascio il link della live sulla mia testa, andatelo a rivedere perché ci sono un mare di informazioni importantissime. In quella live abbiamo anche parlato della questione ciclica di Nasdaq 100 e abbiamo visto anche come Nasdaq 100 è assolutamente in una fase delicata e deve fare, appunto, deve prendere alcune decisioni, quindi comunque potrebbe essere anche una fase di leggera propensione ribassista, diciamo così. Allora andiamo a vedere per quanto riguarda Bitcoin, tra le altre cose guardate anche insomma come Ethereum reagisce, ma non reagisce come Bitcoin, ancora una volta, perché siamo nella fase di stallo, di chiusura, vedete come TH è al di sotto di questo livello di resistenza, mentre Bitcoin lo sta rompendo in questo momento. Guardate, è una differenza sottile, ma le forze relative tra due asset finanziari, praticamente correlati, che sono Ethereum e Bitcoin, sono leggere, quindi bisogna leggere fra le righe, quindi avere un po' chiare questi concetti. Allora, Bitcoin dov'è diretto? Allora, la questione legata al ciclo trimestrale. Questo mensile, che probabilmente è iniziato il 11 settembre, è ancora prematuro, per cui non ci dà un'informazione importante. Sono sette giorni, teoricamente potrebbe aver chiuso il ciclo settimanale qui, o star facendo un bisettimanale con una forma di natura ternaria, si definisce così, quindi con un massimo al centro, quindi una struttura fatta in questo modo, e successivamente che crea un po' questa onda cammelliana, oserei dire, una cosa del genere, va bene. Allora, questa struttura fatta in questo modo, se chiude già 15 giorni al rialzo, potrebbe già indicare la possibilità che effettivamente dal minimo del 11 settembre sia iniziato il nuovo trimestrale, che comunque a livello temporale ci stiamo alla grande. Abbiamo visto un trimestrale dove, anche sempre in quella live vi spiegavo essere sostanzialmente un trimestrale neutrale, quindi non ribassista neutrale, ma non rialzista, che si è mangiato praticamente tutta questa fase. Questa zona qui in pratica, se è iniziato il nuovo trimestrale, non ha nessun vincolo, nessun vincolo, per questo questo significa che può andare anche a fare massimi storici di questo periodo, quindi massimi relativi al 2023, con tranquillità senza problemi. Ovviamente ci credo poco, vi dico la verità, ragazzi, se dovesse avvenire io seguirò, tra le altre cose anche le operazioni di lungo periodo sono rientrate long. Alla fine della scorsa settimana, io ho aspettato questa mattina per fare le operazioni, perché non mi fido di questo rialzo, ve lo dico in maniera aperta e molto sincera, le altre operazioni, quelle settimanali, sono state chiuse in profitto la scorsa settimana, quella mensile è in atto e resta in essere, perché mancano 12 giorni alla fine del mese, quindi possiamo arrivare tranquillamente a 28 mila, anche come target mensile, quindi non c'è assolutamente problemi. Perché? Questo è un ciclo delicato, perché è un ciclo che porta Bitcoin sostanzialmente a tentare di aggiornare o di fare massimi uguali ai precedenti. Se non arriva a questo livello e quindi questa campana, questa parte rialzista, si ferma prima, in sostanza quello che fa è creare una parte rialzista, quindi un lower high, che tra le altre cose è pericolosissimo in questo contesto, perché? Perché sarebbe anche quello che lancia gli short per la chiusura del ciclo annuale, quindi è molto delicato questa fase rialzista ed è pericolosissima e io sono convintissimo che Bitcoin una volta che potrà fare insomma una cosa del genere inizierà a stuzzicare un po' entrambe le fazioni, quindi gli orsi e i tori, cioè sostanzialmente farà una miriade di fake per indicare, magari prendere stop a destra e a sinistra, magari e poi solo alla fine prendere la direzione che è sperata, che non sappiamo ovviamente, no? Quindi, allora, detto questo, una fase buona del trend è questa attuale, non credo che successivamente ci saranno fasi facili da un punto di vista di trend, sarà più uno cammello, uno un po' metto di qua, metto di là, probabilmente il mercato cercherà di stoppare i rialzisti e stoppare i short in modo tale da creare confusione, come fa sempre, quindi mano libera ai trader di breve periodo, poi in quella fase, fase che dovrebbe arrivare a mio avviso intorno alla fine del mese di settembre, dalla fine del mese di settembre in poi, cioè da lì in poi verso il mese di ottobre il mercato potrebbe cincischiare e fare altri fake, solo con il superamento dei massimi, che sui prezzi bit stamp è 28.142, indica, diciamo, solo il rialzo sopra questi prezzi indica con precisione che è iniziato il nuovo ciclo trimestrale da qui, anche se facciamo passare un po' di tempo, se già facciamo un bisettimanale rialzista e insomma passano una ventina di giorni, possiamo anche indicarlo direttamente validato questo minimo, al momento la forza c'è, ma non è tale da farci gridare vittoria, cioè da farsi dire qui è iniziato il nuovo trimestrale, che guardate un po' la meraviglia, è stato bellissimo perché 88 giorni si è fatto così, un trimestrale da manuale, spettacolare, bellissimo, diviso in delle strutture particolari, 21 giorni, poi un ciclo misto fatto da due cicli, sempre da 20 e qualcosa di 47, e poi una specie di lingua di buyer da 20 giorni, giorni bellissima, in cui ha fatto un fake rialzista, ha stoppato tutti longa, ha fatto un nuovo minimo e poi è ripartito da manuale di analisi ciclica, chi si ricorda, chi ha letto i libri di Migliorino per esempio, ci sono anche lì queste figurazioni, questo è l'ABC dell'analisi ciclica, una cosa fantastica ragazzi, siccome il mercato veramente ripete queste strutture di analisi tecnica e di analisi ciclica, e quanto vantaggio informativo, se conoscete queste analisi, quanto vantaggio veramente nel tradare i mercati, con che tranquillità, o i fake e i loss, i stop si prendono comunque, ma che tranquillità a tradare i mercati in questo contesto. Passiamo da un punto di vista di più breve periodo, perché volevo farvi vedere la struttura dei cicli settimanali di breve periodo, prima di concludere con questo video, la struttura dei cicli settimanali ci porta sostanzialmente, vedete, una fase in cui abbiamo una barra di congestione che è stata breccata poco fa al rialzo, ma la struttura dei minimi porterebbe un minimo a tre giorni, che non lascia presagire che qui si sia chiuso un settimanale, bensì è molto più probabile che il settimanale stia diventando a matrice ternaria, e quindi sia un B settimanale sostanzialmente misto, quindi doppio, con una struttura di natura ternaria, dove noi a metà abbiamo il massimo, e poi io vi faccio solo i cicli, perché non so se questo ciclo riuscirà ad andare al di sopra, di alcuni livelli, però tendenzialmente sembra questo la forma. Ora, dove sta un punto d'ingresso interessante, se questa forma ciclica sarà rispettata nel breve periodo, questo gamba ribassista, questa qui, che dovrebbe o potrebbe avvenire proprio in concomitanza con l'uscita dei dati sulla PONC, il tasso di interesse e sconto per contro i quali Stati Uniti, e anche per la questione di Paolo. Ora, questo rialzo in momentaneo è brutto della giornata di oggi, bisogna vedere se il mercato lo approverà, lo continuerà ad approvare, vi faccio vedere anche un altro livello stratosfericamente importante, che sono i 27.500. Perché? Perché è vero che qui il mercato ha provato a fare un hype superiore, è arrivato a 28.100, però in sostanza il vero livello di resistenza è questo qui. Anche se tendenzialmente il mercato, vedete, in questa zona aveva delineato la sua barra di congestione, ecco perché la breakout dei 26.800 ha sancito un'accelerazione, che al momento è anche spenta, ragazzi, perché dovremmo assistere, comunque a qualche altra candeletta verde, nei prossimi giorni, fino almeno al raggiungimento di questo nuovo livello di resistenza, 27.500, per poi provare il break, quindi l'allungo, il rientro in questa fase, in questa zona, che va dai 27.500 ai 28.100, che probabilmente fungerà da punto di arrivo, o di questo ciclo settimanale o del successivo, vediamo se ci arriva, però è difficile che poi qui vada a sparare, a meno di notizie importanti, è probabile che poi se deve superare questo livello, lo farà nel ciclo successivo, nel quindicennale successivo del attuale ciclo mensile. Facciamo anche un altro giochino interessante, andiamo a utilizzare i fibonacci, per comprendere quale può essere il target di questo movimento rialzista, anche se il mercato non avrà la forza di raggiungere i precedenti massimi, così fate anche un'ottica generale sui livelli di target, e soprattutto anche dei pensieri legati magari alle zone, dove un take profit, per chi magari è un trader più veloce, potrebbe essere interessante. Ok, allora ci prendiamo i livelli di fibbo, partiamo dal massimo dell'anno 2023, questo più o meno l'andamento, allora dove sono i livelli? Ragazzi, allora, i livelli sono esattamente coincidenti, più o meno, con quello di cui abbiamo parlato prima, quindi abbiamo una zona di 0,382 di fibbo, che è in pratica i 27.500 di cui vi ho parlato prima, poi abbiamo il 0,5 di fibbo, che è un altro livello di resistenza, in questo caso molto importante, 28.003, e poi lo 0,61 che è il più famoso di tutti, il numero aureo, 29.002, questo livello qui, 30.003, e lo 0,786 sarebbe il livello del get keeper, cioè il pericolosissimo livello di ritracciamento prima della chiusura finale. Teoricamente, se il mercato volesse un po', diciamo, prendere la rincorsa prima di chiudere la struttura ciclica, e non va a fare nuovi massimi, quindi interrompe la sequenza di massimi superiori, a quel punto i livelli di atterraggio di questo movimento potrebbero essere tra 0,5 e 0,76, questa zona qua, che è un'ampia, è molto ampia come zona, lo so ragazzi, però in sostanza coincide anche con l'oscillazione, vedete, di questa fase, quindi una barra di congestione importante, quindi teoricamente potrebbe in effetti allungare tra 28.003 e 29.002, questa zona qua, e poi sostare. L'arrivo in questo punto è veramente molto estremo, e potrebbe essere fatto solo, o appunto per stoppare una serie di short, oppure se il mercato decide di tentare la via del triplo massimo, doppio massimo e quant'altro. Che posizioni avete? Siete long? Siete riusciti a salire su questo trend? Cosa state facendo con le criptovalute e non con bitcoin? Avete creato già un portafoglio cripto? Che ve ne pare se facciamo una live su questa cosa, e parliamo anche di questa cosa, prima dell'arrivo del nuovo anno, quali sono effettivamente le cripto che possono darci un po' qualcosina in più, che sono meno pericolose da un punto di vista grafico, sapete bene che i progetti sono importantissimi, ma quello che conta poi alla fine è guardare i prezzi, perché altrimenti ragazzi non ne usciamo più, anche se una super coin fantastica, meravigliosa, poi andrà alle stelle, prima di farlo inizia sempre un'inversione di trend, ovvio, e quindi poi inizia a salire, va bene? Allora, detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate voi, di questa storia del portafoglio, avete già creato il portafoglio cripto o meno, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti, buon inizio settimana!